Il cuore in forma Se senti vibrare il cuore Assicurati che sia solo il cellulare Il tuo cuore è in forma Il centro diagnostico Basile è anche ambulatorio di cardiologia Attivo presso la sede di Viale Michelangelo 13 Info e prenotazioni 081 578 43 43 O su centrobasile.it Prenota il tuo controllo